Sapete perché un faro divino punta sulla mia finestra illuminando metà stanza? Perché il re delle Bedors è finalmente tornato dopo l'ultima prestazione Che non è andata proprio benissimo ma va bene lo stesso E anche quest'oggi faremo vedere di che pasta siamo fatti Ok fare la voce a coglione non funziona Lasciate mi piace e buona visione Bene ragazzi qua è Stepney e bentornati in questo nuovissimo video di MyCrabby Games Siamo tornati nelle guerre di letto e dov'altro se non altro Dov'altro se non altro cosa stai dicendo? Sono molto carico quest'oggi perché mi sento che le poche partite che faremo le vinceremo tutte quante Quindi due su due e non se ne parla più Questa è la mappa quella con i palloncini Quindi secondo la mia strategia principale potremmo spaccare il letto del nostro caro amico Acqua E acerrimo nemico Acqua il prima possibile Mi libero dei blocchettini d'oro Recuperiamo subito i materiali e corriamo verso la sua base Vai Step Veloce Cattivo come l'aglio Leggero come una farfalla e pungente come un ape Anche se teoricamente le api una volta che hanno punto alla persona poi muoiono E non è bello morire anzi per niente Il nostro amico Acqua non se l'aspetterà mai un'incursione così veloce verso la sua base Dai Step Siamo arrivati Siamo arrivati Oh sì Oh sì In base sua ci sono eh Facciamolo scendere poi lo massacriamo Dai Acqua bello Ebbene ti sto aspettando Intanto ti spacco il legno là sotto così se non dovessi scendere Perdi la base Perdi Eccolo Arrivato 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 Dobbiamo ucciderlo subito Se qualcuno mi va in base adesso è un casino Lui è morto Ti prego ti prego Spaccagli il letto e ce ne andiamo Giuro che non rompo più i coglioni a nessuno Ok meraviglioso Meraviglioso E ti ho spaccato il letto e non rinasci più Meraviglioso Il piano è andato perfettamente almeno fino ad ora direi Quindi recuperiamo subito dei materiali e copriamo istantaneamente il nostro lettino Aver spaccato il letto all'acqua è una soddisfazione non da poco ve lo garantisco Ora con questi materiali però dobbiamo recuperare il prima possibile una bella armatura Perché l'acqua sta arrivando e vuole prendersi la nostra vita Dove sta andando? Sale da sopra Vuole passare dal centro giustamente per cercare di morire da qualcun altro Non è importante a noi non interessa Anche se quando spacchi un letto si presume che tu ti prenda anche la sua anima Possiamo fare volentieri a meno Tanto se lui sta lassù in cima non è un problema per il sottoscritto E però i problemi se li cerca molto volentieri Quindi adesso troverò un modo per salire e andare a fargli il culo al nostro caretto vighetto Vediamo un po' se è sempre laggiù a zonzo oppure ha cambiato il suo piano Non sembrava Eccolo lì sta andando da un'altra parte È il momento di provare a salire secondo me Se riuscissimo a salire adesso e buttarlo di sotto prima che lui possa fare il collegamento Bene sarebbe veramente il top Salire non è semplice dobbiamo fare il più veloce possibile in questo modo qua Ho anche rischiato di cadere mannaggia la miseria Sono arrivato sono arrivato in cima al palloncino in cima al palloncione E lui sta scappando Devo provare ad ucciderlo il prima possibile a levargli la sua anima ragazzi Ora oh my few vai così step No è caduto davanti ai miei occhi Non sono riuscito a colpirlo non ci sto credendo Lui però mi ammazza mi ammazza perché giustamente c'ho mezzo cuore E gli ho regalato dei materiali che avrei dovuto utilizzare Yellow help me at mid Mi scrive il certo rosa Ma che caspita vuoi da me Non ho intenzione di aiutare nessuno se non me stesso Chiamatemi egoista ma questa è la missione di oggi Vincere A questo punto mi conviene un attimo aspettare E recuperare perlomeno i diamanti Perché io fino ad ora non ho preso neanche un potenziamento E qua al centro ci sono 4 diamanti che sono molto buoni Torniamo verso la base dell'acqua Che non c'è più Fortunatamente lo abbiamo salutato del tutto E prendiamo la sharpness per iniziare E un botto di materiali molto utili Che serviranno per prendere la spada Altri blocchettini Un paio di mele d'oro Una TNT Eccoci ho sbagliato Dobbiamo uccidere il blu e il rosa Il rosa mi lantava aiuto dal sottoscritto Ma non lo riceverà mai Anida way up Continua a scrivere Non capisco Se sta cercando di prenderci in pericolo Oppure è tutta una strategia Devo trovare un modo allora per andare a spaccare il culo al rosa Va bene Si può fare Non c'è alcun problema Ok Il letto è stato distrutto dal blu Quindi se adesso il rosa dovesse cadere Sarebbe morto definitivamente Lui dice tanto di essere bloccato qua al centro E non sa che in realtà è morto veramente Addio bello mio 8 smeraldi Aveva 8 smeraldi ragazzi Non possiamo assolutamente morire Questo è il bottino che ci permetterà di vincere contro il blu Allora la vera domanda è come ha fatto il blu ad arrivare in quella base Non lo so Veloce però step Velocissimo Se il blu ci recupera siamo morti eh Dobbiamo correre più veloci della luce Vai step C'è anche l'ipotesi in cui lui decida di andare a spaccare il nostro letto in base Nel frattempo però ha perso il suo Ed è meraviglioso tutto questo È meraviglioso Allora mangiamela d'oro Aspetto perché probabilmente mi butterò nel vuoto eh Ve lo dico Prendo l'armatura quella super potenziata Lascio tutti i materiali in base Lascia tutto quanto dentro Anche lo lì E ci buttiamo nel vuoto È un po' da vigliacchi Ma qualcuno dovrà pur farlo il vigliacco no Sennò come si fa a vincere sta partita Eccolo Ciao amico No 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 Ciao amico ma io ti devo ammazzare C'ho la notura di diamante Ho la spada a giugno della sua Però ha funzionato il piano E si così È la prima partita del giorno Ce la portiamo a casa Perché stabbiamo troppo forte Nel terzo è tornato E dai Mamma mia Tanta roba Tanta roba Vorrei farvi vedere quanti materiali avevamo qua dentro Cioè ricchi sfondati Proprio ricchi per sempre Sì Saremo ricchi Ricchi per sempre C'ho la fornace Che fosse fornati amati Mentre tutto Siamo il team rosa Vogliamo provare a fare l'incursione immediata al nostro vicino Perché no Tanto ne vale sempre la pena In un modo o nell'altro E lui sta venendo da noi Quindi va bene così Chi dei due Sarà più con i nervi saldi Per spaccare la base Del proprio avversario Lo scopriremo presto Mi sa tanto io Ciao bello Oh È caduto? Spero di sì Non è caduto? Sì che è caduto Quanto godo Saluta il letto stronzetto Noi ci fermiamo qua Appena rinasce È morto del tutto Vero? Oh cavolo Mi sono distratto Non ci posso credere Mi sono distratto io E mi sono fatto buttare di sotto Non ci spaccherà il letto Però mannaggia la miseria Devo stare qui attento Ora lui purtroppo Avrà una vita molto complicata Perché ha un solo tentativo A disposizione per ammazzarmi Dopodiché per lui Sarà un grandissimo problema L'ho preso Dimmi che muore Dimmi che muore Me lo colpisci per piacere? Me lo colpisci per piacere? Oh Me lo devi colpì Me lo devi colpì Mannaggia a te È riuscito a salvarsi Ma questo non significa niente Tranquilli che non fa nulla di male Mo lo ammazziamo Mo lo ammazziamo Dove sta andando? Figlio di tua madre Figlio di tua madre No No Ragazzi non va bene Fortunatamente credo Che non abbia abbastanza materiale È caduto nel vuoto Sei quanto godo Non ci si mette contro Stephanie Alla faccia tua Bramava il nostro sangue La nostra anima E ha fatto la fine del pollo Bene così I polli devono finire tutti quanti arrosto Grazie Siamo messi abbastanza bene Perché il nostro vicino è morto Abbiamo già un'armatura potenziata Abbiamo due basi operative Perché significa Adesso io vado nella sua base Posso prendere tutto quello che mi serve di materiali E qui abbiamo il bianco Che è già morto di base Che probabilmente non si è manco connesso Quindi forse oggi possiamo davvero vincere due partite su due Vi avevo promesso che sarebbero tornati i video di Minecraft Presto tornerà anche tutto il resto State solo tranquilli e pazienti È solo una questione di tempo Solo una questione di tempo Questo rosso mi deve morire adesso Se non muore Mi cazzo Mi cazzo di brutto rosso Capito? Eh che cavolo eh Via dei coglioni Lo abbiamo fatto fuori ma tornerà subito Quindi velocemente Prendi una spada E prendi dei materiali Dobbiamo allontanarci Cosa sta facendo il rosso Ha intenzione di riammazzarci Oppure no Non lo so Non lo so Sembrerebbe di sì Proviamo a cacciarlo nel vuoto Sperando di non cadere anche noi Non siamo caduti Bella storia Mi ha scritto noob Ha avuto il coraggio di scrivermi noob Tu non sai contro chi ti sta Stefano! Cosa fai? Va bene Stefano Gli errori di percorso ci stanno Non è un problema Ho buttato via tutti i materiali La spada di Iron E probabilmente il letto E l'anima del rosso Per questo salto malfatto Disgraziato che non sono altro E mai rotto coi Io non beriverò Ma dove va? Ma sei scemo? Io ti sciolgo in due Ti spacco Ti massacro Levati di qui Che cavolo Recuperiamo il prima possibile di nuovo La spada E una mela d'oro Stavolta Va bene Questo vuole divertirsi? Vuole fare il figo? Lo massacriamo Lo massacriamo completamente Voglio proprio vedere cosa fa Bravo Bella mossa si Wow Wow Costruisci i blocchi Incredibile Non ho mai visto niente del genere in Minecraft Sei veramente un genio eh Quindi Bravo Bravissimo Complimenti Io sono ancora vivo E tu no E tu mi hai rotto il cactus Eh no Mi hai rotto il cactus completamente Adesso io ti spacco in due In tutto questo non ho mai preso neanche i diamanti Questa cosa non mi fa stare per niente Tranquillo Perché senza diamanti vuol dire che non abbiamo potenziamenti Mi sono appena stancato di questa situazione In cui il rosso fa tanto il gradasso O il gradrosso Se preferite Quindi adesso in un batter d'occhio Isola di diamanti Prendiamo i potenziamenti Lo ammazziamo E non se ne parla Veramente più eh Chiaro Mettetevelo bene in testa Sta arrivando Vuol rubarmi tutto quel che ho Ma se lo scorda di brutto Perché io riesco a fare in corsa veloce Prendi subito la sharpness Immediatamente Usciamo Lo dobbiamo ammazzare Resto via Arriva da sopra E ci spacchi il culo Dove pensi di andare Davvero Davvero Ma via qua Via qua Coglioncello Ah buffone Buffone Ti do la spada tra i danti Ti porto via E' sopra di me in questo momento eh Voglio fare tanto il figo Va bene Avvicinati Hai 11 cuori Io ne ho 10 Non è assolutamente un problema Figurati se è un problema TNT Figurati se la TNT è un problema Vaffangala Vieni sotto Vieni sotto Vieni Vieni sotto Vieni No mi ha rotto il letto Mi ha rotto il letto Non ci voglio credere E' riuscito a spaccarmelo Non mi sembra vero Perché stavo cercando di chiccarlo nel vuoto Va bene Va bene E' ancora tutto sotto controllo Stepney ce la può fare Stepney ce la fa sempre Me la doro immediatamente Adesso dobbiamo camperarcela un po' Di certo non ho intenzione di farmi fregare Da un pivello come il rosso Cioè proprio ve l'ho scordato E poi sarebbe veramente il colmo Morire dal rosso Io che sono il rosso per eccellenza Dai Sta arrivando eh Il che significa Romperà abbastanza i coglioni Faccio finta di non averlo visto Un respiro profondo Dai rosso Vi è qua Su Ti sto aspettando Cosa fai lì sul ponte A camperartela Sarà mica un cagasotto Sto rosso E' un bel po' cagasotto Dai Vi è qui Vigliacco 15 Arco e frecce Vieni bello Ora mi affaccio E ti do una bomba nei denti Bam Bam così Caduto di sotto raga E' morto? E' morto Si è morto Ancora vivo Ancora no 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 Questo gioco non ha senso Ma vaffanculo L'ho buttato di sotto E' rimasto incastrato In quell'angolino E mi ha fatto fuori La mia anima si è staccata dal corpo E mi ha ucciso Perché quel rosso Rappresentava probabilmente Un dito in tasca Ma va bene così Avevamo detto due partite Una vinta e una persa Bisogna sempre migliorare E le prossime due Nel prossimo video Spaccheremo tutto quanto Cari amici Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete se vi è piaciuto Se ancora non è piaciuto Il canale Noi ci vediamo nei prossimi giorni In un prossimo video Aspettatevi tante cose Qua sempre tutto Preparatevi che il video La quinta stella Sta arrivando